ciao bentornato sul canale del coach sei pronto per un nuovo allenamento insieme a me oggi faremo un allenamento semplice anche se stai benissimo come la penso non esistono allenamenti semplici la difficoltà di questo workout la stabilirai tu sulla base dell'intensità che metterai all'interno di ogni singolo esercizio proposto questi esercizi di oggi half bar pinning up squat più knee touch walk out più plank knee up lunge hover and raise 4 volte un circuito composto da 4 esercizi 30 secondi di esecuzione 10 secondi di recupero se vuoi trovare una programmazione completa e professionisti dal punto di vista nutrizionale e dell'allenamento vieni a fare un salto sul mio sito internet troverai tutte le informazioni per iniziare il tuo percorso di cambiamento insieme a noi stiamo per iniziare iniziamo con half barpi knee up pronto 10 secondi e partiamo ripeteremo questi quattro esercizi per quattro volte mi raccomando spingiti al limite sempre 3 2 1 qui apro chiudo su apro chiudo sinistro e l'occhio verso l'alto un esercizio semplice per tutti se ho fatto con la giusta intensità darà risultati intervento di forza vai fuori stop 10 secondi bene l'avrai capito questo è un allenamento cardio spingeremo il tuo cuore al limite ma anche i muscoli squat più di touch 3 2 1 via qui bene lo squat ampiezza delle gambe leggermente superiore a quella delle due spalle punte dei piedi alle 11 e 5 ginocchia che seguono l'andamento delle punte dei piedi scendendo e mantengono la stessa diagonale di spinta in fase di risalita bene il sedere indietro andiamo ultimo stop bene adesso faremo un workout più plank knee up mi raccomando sedere basso da qui andiamo adesso a camminare vai sedere basso tocco ginocchio tocco ginocchio su giù tocco tocco su schiaccia bene il pub e quindi sedere verso il basso qui su su non riposiamo mai anche quando mancano pochissimi secondi adesso lancio quindi a fondo più braccia dietro la nuca 3 2 1 vai mani qui dietro la testa bene controlla bene la fondo ginocchio esattamente sopra alla caviglia il muscolo target del lavoro è quello della gamba anteriore la posteriore serve solamente a darci equilibrio forza bene su lavorano anche le spalle leggermente ma lavorano stop bene cappellino all'indietro segno di battaglia ripeteremo questo per altre tre volte subito al bar mini up 321 forza non scoraggiarti soprattutto se sei all'inizio servirà costanza tanta determinazione ma raggiungerai tutti i tuoi risultati si ammetterai queste caratteristiche andiamo ancora dieci secondi sono pochissimi te ne stai rendendo conto adesso squat più tocco delle ginocchia vai su 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 spinge spinge dai dammi il massimo stop adesso invece nuovamente walk out utilizza questi pochi secondi per rifiadare forza giu bene verso il passo torna su 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 qua, tocco, tocco, su, stop, chiudiamo con gli affondi e mani di rolanuga, forza, dai, concentrato, testa e cuore, andiamo, bene, la respirazione, curala, è fondamentale per portare ossigeno, nutrimento vitale per i muscoli e lavorare al meglio, forza, riporta le braccia verso il basso e poi su, stop, non ce ne siamo neppure accorti, siamo già a metà del lavoro, continuiamo così, a tuta, tornano i mezzi barpees, 3, 2, 1, vai, spingi, spingi al limite, forza, Aria, fuori, stop, bene, ancora squat, ancora tocco delle ginocchia, ancora determinazione soprattutto, vai, con la mano opposta tocco il ginocchio opposto, andiamo, non sono le mani che scendono, sono le ginocchia che vengono verso l'arco, forza, bene, busto leggermente verso il basso, stop, bene, walk out, inizia a fare caldo, iniziano a mancare le energie, manca l'aria, non ci fermiamo, via, giù, qua, ginocchio, su, e andiamo su, in spinta, bene, su, forza, concentrato, concentrala, dammi tutte le energie, metti dentro tutto, stop, tornano gli affondi, divertiti soprattutto, questa è la chiave fondamentale per il successo, sempre in ogni ambito, vai, fai le cose non come obbligo, ma per il piacere di farle, perché stai facendo finalmente qualcosa per la tua salute, per il tuo benessere, per te stesso, per te stessa, forza, bene, mantieni il ginocchio sopra la caviglia, busto, leggermente verso la coscia, 10 secondi di recupero, manca solo un giro, sembrava infinito, siamo quasi al termine, forza così, vai, qua, destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, su, è molto simile all'esercizio che faremo dopo con lo squat, ma è alternato, su, 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 stop, eccolo, torna, squat, più tocco delle ginocchia, fatico anch'io, ma non mollo soprattutto di testa, vai, spingo, spingo, in maniera alternata, destro, sinistro, bene il sedere indietro, apri il petto, porta le spalle indietro, busto leggermente verso le cosce, aria fuori, 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 ultimo, stop, bene, due esercizi al termine, iniziamo con il walk out, via, srotolati, qui, giù, ginocchio destro, sedere, su, giù, poi ancora su, giù, e ti riarrotoli, vai! stop, ultimo esercizio, qui, ci metti dentro tutto quello che ti è rimasto, forza, via a fondo, spingi, spingi, aumenta se puoi, come me, vieni a dire al mio ritmo, destro, sinistro, destro, sinistro, ancora, destro, sinistro, forza, pochi secondi al termine, spingi, stop, benissimo, abbiamo portato insieme, questo fa la differenza, al termine un ottimo allenamento, sembrava essere semplice, così non è stato, se ci metti la giusta carica, la giusta determinazione, la giusta intensità, non esistono allenamenti semplici, come non sono semplici gli allenamenti che puoi trovare su un gruppo facebook privato, insieme a me, in live, tre volte a settimana, vai sul mio sito internet e troverai tutte le informazioni, oltre a trovare dei consulenti in nutrizione e nell'allenamento in programmazioni professionali, per iniziare il tuo percorso di cambiamento, ricorda, alimentazione costante, allenamento settimanale, porteranno per forza a risultati sicuri, scientifico e ricorda sempre, daglie tutta!